ciao a tutti bentornati su nikila gamers e continuiamo con zombie questo qui l'ultimo pezzo e come detto anche l'altra volta scusate se ve lo ripeto ma magari c'è sempre qualcuno che non li vede tutti questo qui la voce l'ho registrata dopo quindi niente buona visione allora gli abbiamo dato tutte le lettere al dottore per questo che non era nel suo cubo dal criceto e niente cerchiamo di andare avanti qua c'è la porta dove noi dovremmo entrare che adesso naturalmente serve la reti c'è gli occhi del dottore per aprirla niente lo andiamo a cercare si è chiusa il aria brava grazie Sì! Grazie a tutti. 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 Dov'è lo zombie? 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Non ce l'ha fatta. 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 o brucia. non ce l'ha fatta. ma... non ce l'ha fatta. 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 qui il prepper. mi ricevi. il primo finale. ti vediamo. oh... non ce l'ha fatta. non ce l'ha fatta. ti vediamo. e...